Euroforum 2010 per Samsung, ecco il nuovo line up dei tv che stanno per arrivare sugli scaffali. Questo è il nuovo led serie 9000, il top di gamma, un tv terribilmente sottile, praticamente oramai una specie di foglio di carta, con la sua finitura acciaio molto elegante, molto nuova, abbandona gli stilemi del nero dappertutto per i tv ed ecco finalmente questo nuovo modello, ovviamente un modello già compatibile con il 3D, possiamo rivederlo qua, ma seguono anche le altre serie, serie 8000, altrettanto bella, leggermente più spesso, sempre con la finitura acciaio satinata e con questa base molto stylish, interessante, di alta qualità. E così anche la serie 7, sempre led, sempre con la stessa base, però con una finitura che torna un po' più classica, verso il nero. Da segnalare anche i nuovi tv della serie 6, in finitura bianca, con una finitura direi materica, e assolutamente interessante nel suo look all white.